Il ponte Mausonia Porta Napoli sarà un'infrastruttura che alleggerirà il traffico sulla direttrice che attraversa l'Aquila, la statale 17, rendendo quindi possibile realizzarvi collegamenti di mobilità dolce, a cominciare dalle piste ciclabili. Inoltre, unito al prolungamento del casello autostradale dell'Aquila Ovest nella zona industriale e alla velocizzazione del collegamento con Pescara, di cui la variante sud sarà il primo passo, svilupperà per il capoluogo un attraversamento esterno al centro abitato, con effetti benefici sulle viabilità complessiva, ma anche per il transito dei mezzi pesanti e delle automobili che non devono sostare in città. Lo ha detto il sindaco Cialente questa mattina in conferenza stampa con il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci. Grazie al ponte, in sintesi, si raggiungerà il duplice scopo di rendere l'Aquila più vivibile e a misura di spostamento e la si metterà a sistema con un'arteria, la stada Amazonia, oggi poco valorizzata, ma in grado di inserire la città al centro del sistema infrastrutturale della regione. Il progetto è stato presentato questa mattina dal sindaco e dal presidente della commissione territorio del consiglio regionale, dicevamo Pierpaolo Petrucci, che lo hanno richiesto e sostenuto ottenendo l'inserimento all'interno del masterplan d'Abruzzo, con relativo stanziamento di 8 milioni di euro. Cialente è l'obiettivo da cui nasce l'idea del ponte, alleggerire il traffico che attraversa la città, sfruttando il polo di pile che è industriale, ma anche direzionale e commerciale. Oggi gli unici accessi alla stada Amazonia sono infatti a Centicolella, alla stazione e nella zona di Martini, ma sono tutti scomodi e poco fruibili. Quello di Centicolella addirittura va solo in una direzione, con un collegamento così diretto da Porta Napoli, la Statale 17, che in città e via Alecorrado IV e via 20 Settembre diventerebbe di fatto una strada interna alla città e sarà possibile pensare di svilupparvi anche una mobilità dolce. Cialente e Pietrucci hanno poi spiegato che il prolungamento del casello stradale di L'Aquila Ovest nella zona industriale, nascerebbe infatti di fatto una terza uscita do stradale, consentirà di spostare il traffico pesante di attraversamento sulla Mausonia. Pietrucci era assicurato sull'impatto, parlando di un equivoco nato dalla diffusione di alcuni rendering grafici non ufficiali. Per il consigliere regionale il ponte è necessario, ancora di più se pensato in un sistema di investimenti in infrastrutture per il capoluogo, che gli darà maggiore centralità all'interno del sistema abruzzese e il rapporto con Roma. Oltre alla variante sud ci sono 37 milioni di euro fino a Poggio Picenze. Alla generale velocizzazione del collegamento con Pescara, assicurata anche dall'impegno del presidente D'Alfonso di far inserire l'opera nell'allegato nazionale infrastrutture, Pietrucci ha ricordati due lotti dell'Aquila Matrice, che miglioreranno anche il collegamento con il Lazio e il prossimo inizio dei lavori per ripristinare il cosiddetto assunto di Sulmona, che consentirà un collegamento ferroviario diretto con Pescara. Grazie.